Amici di Marching Games, bentornati su Golf. Oggi siamo a Corrupted Lake, ma non vi dirò, ragazzi, quant'è il par. Cioè, quant'è che vi ho messo di colpi massimi? Nico, vi dico solo che sono stato gentile e io ho messo due di penalità. Vuol dire che ha messo tipo colpi massimi due. L'ho colpi massimo uno. Non ce l'ha scritto tutto l'inone. Sbang. Vabbè, almeno non è uno. Attenti, tettacoli! Cosa mi ha colpito? Ti ha fatto fare buco o sbaglio? A me? Sì. No, mi ha buttato fuori dalla mappa. Boogie. Boogie in su. No, no, che arriva il tentacolo, no, che arriva il tentacolo. Colpi eseggi due. Ah, eri due! Era due. Era due, raga. Però ho messo solo due come colpi massimi perché è giusto che sia così. Siete contenti? No. Come no? Ma l'avete visto anche voi qui a destra? Cosa c'è? Oggi dico delle parolacce, eh? Vabbè, ma va a cagare. Secondo me quello non va, raga. Loco, non so se voglio provarlo. Mi sa che farò normale io. Ma sai che anche io vado nel cil. Ma sì che va e che devi farlo tipo forte. No, no, ma no, ma no, ma per... Nico l'ha fatto e lo faccio anch'io. Ma dove hai tirato tu? Tu mi hai detto di farlo forte e l'ho fatto forte. Ho capito, ma dove? Di lato, al coso. Eh. Ma Nico l'ha fatto? Per la cosina... No, io ho perso. Eh, non si può fare. Io non so manco dove si ha la buca. Provo a fare un'altra cosa io, raga. Boh, giusto che... L'avete sbagliato tutti e ho voluto sbagliare anch'io perché sono gentile, punto! Graun! Eh, ho provato, io ho provato a fare quelle stupide. È così che si gioca. Si fanno quelle strane capperi. Carciofi. È tutta per brinta, cioè... In realtà, vabbè. In realtà dietro di noi c'è una buca, però non so come si possa prendere. Nico l'ha, bravo. Grazie. All in one. Ho impegnato molto. All in one? All in one. All in one. All in one. All in one, hai fatto? No. In realtà sono passato sopra, tipo. Vedi dove c'è un arco, tipo là sopra. Ecco qui. Bravo. Um. Comunque non l'ho fatto al massimo. No, infatti non l'ho fatto al massimo. C'era la buca dietro di noi, comunque, eh, che era interessante. Eh, ma era brutta. Quella di rimbalzo, vero? Sì, sì, di rimbalzo. Uuuu. Che cosa si rimbalza? L'avete visto tutti? Sì, ma dove vai poi? È difficilissimo, eh? Eh, c'è lì un bel canestro. Eh, vabbè, non è facile. Non è facile. Sì, era facile. Ah, ma è dritto. Pensavo dall'altra, pensavo... Ma non è entrato! Vabbè, Loco ha un po' di... Ma c'è un canestro anche lì. Sì, esatto, ce ne sono tantissimi. No, 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 no. Loco, 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 io non ci credo, veramente. Ma che cosa ci fai lì in mezzo alle... Quella puoi ancora fare, Marcin? Eh, insomma, l'ho, Nico. Così... Oddio. Madonna, Marcin, chi odio? Non è vero. T'ha fatto buca? Birdie! Va bene. L'avrei fatto in uno, ma va bene in due lo stesso. Va bene in due lo stesso. Ah, Loco schifo, mamma mia. Mi hai fatto perdere un colpo. Mi hai fatto perdere la buca! Ma io non l'avevo ancora tirato, ma ci rendiamo conto? Ma perché il cane mi ha sposto? È una marmotta! Ma dove vedi le marmotte, tu? Curati! È una marmotta. Only one! Ma sta marmotta! Ma era facile. Io non ho capito come posso farlo lì in one, sinceramente. Non lo so, devi andare un po' a caso. A destra. Vedi che c'è una porta lì. Una porta? Io non ho preso quella porta. Ma che può? Ti avevi detto, Marcin, è only one. Dove c'è la rampa che sale in alto. Deve avere un po' di fortuna, però, perché ci sono un po' di cani che... Ecco l'hai fatto. Ma dove... Sei finito? Che cosa sta succedendo? Che cosa sta succedendo? Non... Un po' più piano, forse. Eccolo. Vabbè. È complesso. Va bene. Che cosa devo dirvi, raga? Che cosa devo dirvi? Va bene. Ok? Questo perché non sembra complicated? Di tutti c'è un castello molto bello. Io ho visto un tentacolo. Oddio, ma si passa in quel castello? Non si passa? Di realtà, sì. Alla bocca quale? Cavolo, è vero che so... Perché ha fatto un colpo e me ne ha contato i due? Ma? Ma? Colpi esauriti. È tosta sta mappa, raga. Questa mappa è veramente tosta. Non è brutta, è tosta. È diverso. Brutta quasi, quanto Nico? Vabbè. Faticoso, raga. Se si diverte, è presente tipo i bimbi che dà il giochino per divertirsi. Oddio, ma c'è qua a sinistra. Sono una bocca. Come si fa a prendere? No, quella più facile. Ma quella dietro secondo me è fattibile, eh? Non so come ho fatto o me l'ho fatta. All in one. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Devi farlo un po' più forte, Nì. Quasi quasi al massimo. Io ho fatto questa. Era un 3.5 comunque. Io ho fatto 3.2 tipo. Tensione, io ho 4. Io faccio un 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. Ma è di nuovo quella di prima? No, è diverso. Perché secondo me... All in one. Adesso c'è Loco in mezzo. Loco, vai che così posso andare io poi. Loco, ti prego. Ho perso, ho perso. Ok, ho perso. Ti prego, pallina, entra nella buchina. Brava. Io non l'ho fatto. Ma dove siete andati voi, scusate? Ah, volete fare il rimbalzo di sopra? Eh, ho sbagliato. Non potevo più farlo all'altra, quindi... Hai fatto bene il tuo far quella giusta, dritto. Era la cosa migliore. Ma non ho neanche visto quella sopra. Eh, ma era la cosa migliore. Hai fatto la cosa giusta, bravo. Secondo me, se prendo fortissimo dietro... Ti ho portato anch'io a farlo dietro, non l'ha funzionato, tranquillo. Farei così, sinceramente, parlandoti. Ma io ho un'idea. Ma Nico, fa le cose semplici e poi vinceci, credo. Ma guarda che sei proprio un falso. È la prima volta che la faccio come... Guarda, non ti risponderei. Stai zitto, stai zitto. Non spreco fiato con le persone. Io sono passato sotto. E c'era... Dietro c'era la parte sotto. Eh, sì. Perché ballò di qua? Perché c'è una buca dietro di noi? È una buca, lo sai? Io adesso non mi fido più. Come ci arrivi? Con un colpo sciallo. Ah, no, mi sa che non si può. E qui? È uno squalo qua. È bello squalo. Andiamo a se si può. C'è una buca dietro le alghe. Basta che vai dritto, Marci. Ma forte, secondo voi? Eh, sì. Ma tanto ti fermi. Ti becca un squalo. Non becca... Grazie di avermi beccato, Nico. Oh, non mi ha fatto risponare. Ma com'è lo squalo da beccare, scusami? Non è vero, non è vero. È un pagliaccio lui. Loco, sei terribile, comunque. Noi siamo gentili. Sì, ma non sei tanto ultimo. La cosa divertente è che lui prende in giro le persone, dice gli insulti e poi si lamenta. È vero, lui si lamenta. Farà la vittima. Perché c'è la parte dietro? Io penso che farò questa qui. Devo farlo in one in one. Bene. Molto bene. All in one. E al massimo? Io ho fatto... Sì, fallo al massimo, che forse non ci arrivo. No, no, massimo no, non lo so. Io l'ho fatta quasi al massimo. Ma non ci sono arrivato. Vabbè, due. Vabbè. Tu l'hai fatto, Nico? Ah, allora ci sei, eh. E allora spacchi, eh. Di nuovo uguale. Oh, la senti da presenza. Vado, questa è proprio tosta, raga. Ma se vado dietro qua e tiro una legnata. Ma non credo sia necessario. Da, ma è fiscamente possibile. Secondo me qui non è al massimo. Fiscalmente possibile. Fiscalmente? Esatto. Ma Marci, ma perché non vai dritto? Non è al massimo comunque di meno. Lo so, io so. Per fare 2.5. Eh, mi sa un po' di più. Però non ne sono sicuro. Stai calcolando questo. Stai calcolando giusto. All in one. 2.7, tipo. 2.7, ragazzi. Madame Arquiz. No, di nuovo questa, no. Io non la posso vedere questa qua. Ok, qua che cagamai. Ma perché il mondo mi odia? Perché il mondo mi odia? Mentre il mondo cadia a pezzi. Annacci. Beh, tocca anche quello adesso. Ovviamente. Sono tornato allo spawn. Più 4. Ma dai. Raga, mi ha fatto andare sotto. Oh. No, ho perso il colpo. No. No. Mi piace. Io mi ho preso la buca. Ho preso la buca e è andato in acqua poi. Dai, vabbè, raga. Va bene così. Va bene. Che devo dirvi, raga? Che, 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 che. Ma andate a fare in c***a. Come hai fatto a passare? Ma io a quel me. Non importa. Ma vai a quel paese, squalo schifoso. Che ti venisse la diarrea in acqua. Ma gli squali. Ma gli squali cagano? Tutti cagano, loco. Tutti cagano. Io ho chiesto come cagano. Tu ho chiesto se cagano. Come vuoi che cagano? Perché questo è da fare al massimo, secondo me? Secondo me no. O forse sì. Qualcuno mi ha beccato. Io non ci credo. Era Nico. Ma non ti ho beccato. Dai, ma guarda. Dai, non è possibile ogni volta così. No, non è vero. Eppure rimane il mio cadavere. Mi stai passati in mezzo. I cadaveri non valgono. Bene, va bene. Ma come loco ha superato Nico? Oh mamma mia. Sì, sì, sì. Ma solo io ho la visuale bugata? Io qua non ho idea di cosa io debba fare. Io non posso vedere il mondo, raga. Mi spiace. Mentre il mondo cade a pezzi. Loco fa la cacca con i desideri di Buddy. Che secondo me è tanto strana la roba da fare? Hai suddito un fungo. Ah, ci do. Ma ero dritto. Ci siamo messi dritti. Devi rompere le p***e ogni singola volta. Gli singola cosa che fai, devi rompere le p***e. Loco sai che è un po' troppo quello che hai detto? Ero dritto. Ho perso per colpa tua. Hai capito. Nico, lui si è fermato davanti alla buca e non ha perso per colpa tua. Ma è scemo, è scemo, è scemo. Questo gioco comunque lo devo disinstallare. Io non mi muovo da qua. Mannaggia. Marci, dov'è? Dove c'è la buca, Nico? Dove c'è la buca? E questa buca si fa in tre colpi? Perché è il pari in due? Il canale dove ti porta, Loco, Lokis? Non ti fa buca. Porco, Lokis. Ti sei fatto colpo. Ma io in realtà forse la faccio. Non ti chiudere, non ti chiudere adesso, porca pupa. Dai, ma che gioco di mo'. Bello. È un bel gioco. No! Ah, non sono io questo. Vada a Marci. Birdie. Era easy da fare questa qua. Spiace, Loco. Dico, sei tutti noi, eh? Io andrò in quella dietro. Ma questa evitarla è complicata, eh? Mi devo andare al massimo centralissimi, tipo così. Ok. Oh, chi m'ha beccato? Il tentacolo. Ma porca puzzolignola. Ma proprio mi devi toccare, è incredibile. Adesso faccio tutto il discorso che ha fatto lui prima. Fallo, forza, fallo. Raga, ma c'ho le buche dietro. Senta a cua, il Birdie! Sì, sì, si ha fatto Birdie! Ma che problemi hai? Ma stai bene? Beh, sei solo di me. Secondo me devi farti vedere. Cioè, io non ho detto niente su questo video. Ho fatto tutto da solo con tutti. Hai tutto! Raga, ciao a tutti. Un bacione. Un abbraccio. Ciao.